Proveniente direttamente da quella fonte di creatività, credo. Io lo facevo, non lo faccio più in questo momento. Non so come ho fatto a comporre quelle canzoni che hanno emozionato così tante persone. I primi brani scritti magicamente. Buio a pranzo, ombre sul cucchiaio d'argento, lama fatta a mano, palloncino di un bambino. Siediti e scrivi qualcosa. C'è una magia in tutto questo, e non è il tipo di magia di Siegfried e Roy. Una magia diversa e penetrante. L'ho fatto una volta, non puoi fare qualcosa per sempre, l'ho fatto una volta, ora posso fare altro, ma non posso. Non mi consideravo pienamente felice o infelice. Da sempre ero conscio di un qualcosa di più che dovevo raggiungere, di cui non faceva parte il luogo in cui mi trovavo in quel preciso momento.